In forma in 20 minuti, la pillola di benessere a cura di Training 20 per allenarsi sul posto di lavoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Millennium, da Flavio Bucciarelli, titolare di Training 20. Perché promuovere il benessere sul posto di lavoro? La nostra mission è di aiutare le persone ad avere uno stile di vita sano ed attivo. È provato che nelle aziende che incoraggiano i propri dipendenti a praticare attività fisica, aumenta la produttività, diminuisce l'assenteismo e migliora la soddisfazione dei dipendenti. Training 20 dà la possibilità a tutte le aziende, sia piccole che grandi, di promuovere il benessere sul posto di lavoro, tramite il nostro Mobile Lab, la prima palestra itinerante in Europa, che vi raggiungerà direttamente in azienda, offrendo un allenamento completo, veloce ed efficace. In soli 20 minuti a settimana potrete scaricare lo stress e migliorare il vostro benessere psicofisico, rafforzando i principali distretti muscolari senza impiegare troppo tempo. Non avrete bisogno di portarvi il cambio perché da noi ci si allena così come si è. Inoltre non suderete, grazie ad un controllo costante della temperatura e questo vi permetterà di svolgere l'attività fisica sul posto di lavoro senza rinunciare alla produttività ed al benessere. Alla prossima! Informa in 20 minuti! La pillola di benessere a cura di training 20 per allenarsi sul posto di lavoro. Torna domani, alla stessa ora. Se vuoi riascoltare la puntata, vai sul sito radiomillennium.it nella sezione podcast.